Buongiorno, la figata di poter vendere una casa con un cliente fantastico che ti fa un piccolo regalo. Ti dà un paio di fuori bici da potare, una busta e ti dice raccogli tutto quello che vuoi. Queste sono le cose belle della vita. Ringrazio questo fantastico cliente. Posso vendere anche la tua.